Buonasera, siamo qui al teatro Brecht di San Sisto di Perugia e stiamo per mettere in scena una commedia teatrale che si chiama Apollo Catella Luna. E qui con Pianeta TV che sta in tutti i pianeti e che io ho visto tutti i pianeti di Pianeta TV li ho visti, vi garantisco che faremo una cosa di beneficenza ma una cosa fatta bella perché questa commedia teatrale che si chiama appunto Apollo Catella Luna significa che tutti quanti cercano di raggiungere la luna e quelle che stanno sotto pensano che quelle che stanno sopra il mondo l'hanno raggiunta e invece quelle che stanno sopra il mondo si rendono conto che non l'hanno raggiunta e quelli sotto corrono perché sono convinti che quelli sul mondo hanno raggiunto la luna e e allora corrono tutto quanto dietro a una luna che però non si può prendere. Quindi adesso andiamo a vedere quello che succede nei camerini, ci sono qualche disgraziata che sicuramente saranno nute, speriamo di no, eccoci qua, seguiteci, 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 seguiteci e guarda chi c'è la regista, la regista eccola qua, abbiamo la regista, gli attori che si stanno preparando, qua siamo tutti caldi, roventi e tanto è vero la finestra è aperta perché siamo tutti bollenti, questa è l'attrice più bella che abbiamo mai avuto nella nostra compagnia, come ti chiami? Livia Abbiamo pure questa bambina che fa un ruolo molto importante che si chiama Livia, guardala qua, truccati, fatti vedere come ti stai truccando, fatti vedere, che ruolo fai Livia? Cucciolo di ma, cucciolo di ma, e poi soprattutto è migrante, la bambina è migrante, e vabbè, e poi allora questa è una compagnia che si chiama Fuori Inerzia, che non è Fuori Inerzia, Fuori Inerzia con la nostra regista, e abbiamo, abbiamo, e guarda che abbiamo qua, uno dei più grandi splendidi attori che saranno il futuro del teatro italiano, ma ve lo dice Gargiulo, ehi, no fidatevi, e si chiama, come si chiama? Matteus Bertone, Bertone in napoletano, tradotto in italiano Bertoni. E sono emozionato di stare qui davanti a Gargiulo, perché mi mette sempre in soggezione. Comunque, siamo a, quanto, dieci, un quarto d'ora dall'andare sul palco, siamo stressatissimi, abbiamo fatto una full immersion incredibile, negli ultimi due giorni abbiamo provato ininterrottamente, perché io sono tornato a Bruxelles sabato sera, e oggi siamo lunedì e stiamo per andare in scena, e non provavamo lo spettacolo da settembre. Perché noi abbiamo un artista internazionale, che se stava a Bruxelles stava? Ma da Bruxelles viene qua, poi andiamo a Cremona, poi chi lo sa, se andiamo pure in Spagna, hanno detto che forse andiamo in Spagna. E ho Brasile, Brasile, e qui andiamo fuori di inerzia, ma guardate che creature che abbiamo, guardate che bellezza. E presentati, e dillo, come ti chiamo? Lorena. Lorena, e poi? Mastro Matteo. Mastro Matteo, e che fa Lorena Mastro Matteo in questa compagnia? Teatro, la cà? Teatro, la cà? Faccio il giudice, l'emigrante, l'artista, la ballerina. Sono tutti i ruoli che lei proprio ce l'ha dentro. E adesso andiamo in un altro camerino a vedere chi c'è da questa parte, seguite, seguite. Abbiamo un'altra attrice molto importante, un ruolo molto importante, due attrici molto importanti che si chiama, una come quella di fratella che stava di là, e come si chiama questa di fratella che è la sorella del fratello che si è presentato prima, che si chiama? Caterina. E come ti cognomo? Bertoni. Ah, vedi? Sono tal e quale, i cognomi sono uguali quando sono fratelli di solito, oppure a Monice. Sì, Monice tu? Fratelli no. Ah no, Monice però. No. E abbiamo anche Milena, guarda Milena nello specchio, c'è Milena, aspetta Milena, non parlare. Tu, che ruolo fai in questa commedia? Faccio. Capito. Sabrina. Capito, ti ho preso. Volevo fare di... Che ruolo fai in questa commedia? Faccio Sabrina. Sabrina, e chi è Sabrina? Sabrina è una ragazza di Gioni Nostri che va al lago con una sua amica e tra una checchierata l'altra, al prendere il sole l'altro, cerca qualcosa da mangiare. E lì viene un po' di... Un alba che? Un albanese. Un albanese. Allora questa è anche una storia che è vero, ci porta sempre a questa nostra emigrazione del Novecento, quando era Cargiullo e ai tempi di questi ragazzi che quando invece vanno al lago ci trovano all'albanese che pensava di arrivare in Italia e trovare l'America. Ecco, siccome noi quando siamo stati là all'America l'abbiamo trovata e poi ce l'abbiamo trovata veramente, chi se vengono qua e all'America poi non la trovano e allora siamo comunque noi siamo sempre quelli che pensano che stiano sulla montagna a toccare la luna e noi siamo lassù. Ecco, adesso andiamo a cercare un altro camerino, altri personaggi, eccolo qua. La regista lo sta truccando e questo è il nostro, è il nostro mitico, ma che dico mitico? Mitico, guarda uno specchio che ti stiamo intervistando, guarda chi ci sta, guarda chi ci sta, pianeta TV, pianeta TV. E allora, che ti sembra che tu, perché poi tra l'altro il nostro giovane e nuovo acquista, vero regista, gli faccia lei una domanda e si dia lei una risposta al posto suo e se passate mezzanotte, se è possibile, se ancora vi fate la domanda, io me ne vado a dormire perché avete stancato con la domanda, se hai domani oggi che domani. E che canuscia a Gargiù, no, canuscia a Marzullo. A Marzullo, perché Gargiù lo conosce a Marzullo. Ma io non lo so, domande niente, sei felice? Questa sera, sì. Allora, è valsa la pena, è valsa la pena. Allora, io invece vorrei fare una domanda seria a questa signora che riesce a creare con una commedia, uno stato d'animo importante. E' stata un'avventura molto bella. E' iniziata, sta proseguendo. Quello che voglio chiedere a Mary, perché poi Maria Luisa Pasquarella... E' un nome maleducato, come diceva Troisi. Allora, gli vorrei chiedere, ma come gli è venuto in mente di fare questa commedia? Ah, che poi è una commedia, ma anche un dramma. Allora, niente, mi è venuto in mente perché abbiamo fatto un laboratorio tanti anni fa nella scuola media Bernardino Di Betto e in un progetto che, scusi, in un progetto che lavorava attraverso il teatro per l'integrazione dei bambini stranieri, in particolare extracomunitari. E abbiamo fatto un lavoro con gli insegnanti della scuola, David Naderi, Marinella, Marta Tittarelli è stata il tramite molto emozionante e abbiamo cercato con loro brani di letteratura e mi era rimasto nel cuore questo lavoro. Quindi poi ho voluto farlo crescere con loro, esplorare, consegnarmi proprio completamente. Infatti, devo dire, mi sono veramente messa a nudo, per cui speriamo che la sfida porti un risultato di soddisfazione da parte del pubblico e ovviamente ringrazio tutti. È vero che siamo sempre tutti un po' emigranti dentro? Io sono un emigrante dell'anima, sempre, e in ogni incontro c'è sempre un pezzo di straniero che va incontrato, che poi sia il vicino di casa, ossia la persona che arriva anche in condizioni abbastanza disperate dalla terra più lontana del mondo, comunque c'è un pezzo di straniero anche a noi stessi, anche a noi stessi. Io non vedo l'ora di fare pace con i pezzi di straniero che ho in me. E allora se siamo tutti emigranti, emigriamo, emigriamo, andiamo in teatro che facciamo la commedia. E emigriamo!